Fumetti fatti paparapapà Direi di Accontentare I primi dieci sub Fare la prima multi Vediamoci un attimo la batch Allora Ovviamente I due buffer principali che abbiamo già analizzato Nella live Qualche live fa Mishinan Tech Cell Tech Poi abbiamo Ottimo PG Bra Buon buffer Oh mio dio Perché lui Non potevano mettere qualcos'altro Di rate up Perché Immagino ci sia di meglio Di Super Saiyan 3 Vegetatec Va bene Insomma Insomma Potremmo fare tranquillamente a meno Mestro Muten Cigarba Io non l'ho ancora trovato Quindi magari Scusate Miki Grazie per il follow E poi ci sono le varie SR Che ci servono Insomma Tenshinane Invece Per la SA Va bene In più per ogni multi Portiamo a casa Un Elder Kai Extra Ti è pronti Ma non lo voglio neanche clipare Non me ne frega più niente ormai Chi è questa La Batch ce l'ha dato Ma non è quella SSR Scusate E' un altro PG banner Vegetta Bra Ragazzi Ottimo Ottimo bra Avanti Fantastico Cell Ciao Ho sperato Per un attimo Che fosse Fake animation Invece Invece Altro Cell Chi sa Cosa uscirà Nella Garantita Ho paura Lui E lui E lui E lui Che incubo Questo maggeta Che incubo Che incubo Che incubo Che incubo Meno male che abbiamo trovato bra Io direi Di fare Questa seconda Multi Un po' di gente Random E' rimasto di nuovo Base form Dai Doppio crack di screen Dai Dammi un LR Dai 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 Non è possibile Non sei neanche In rate up Nonostante sia andato Ad ezza E' sempre un fastidio Trovarti Vegeta Tutorial Già ce l'ho Full abiti Capito Ma ormai Che serve Una persecuzione C17 Nail Gace l'ho Full abiti Maggeta Tech Great Simon Questa è la patch Di Nail E dopo D'Ur Chi è questa persona Scusate Domo Grazie per il fall Dopo D'Ur Sicuramente Uscirà Una buona carta Vediamo Maestro Muten Shinan Broly LR E invece Nappa Che schifo Che schifo Che schifo Ecco Non poteva essere Radish Quello nuovo E comunque Tech Sarebbe stato Una festa Farlo No Non è possibile Dai Ma che schifo Che merda 18 18 Forza Forza Dobbiamo Dobbiamo ritornare A parlare Di palle E pullare Ho capito Tutti 110 Ragazzi Fatemi sbloccare Le nuove emoji Scrivete Tutti Contemporaneamente Forza Un bello Un bello Spammone Tutti E 110 Mani Al cielo E' andata E' andata Il trio Il trio Quindi G banner Un attimo Di battipure Ragazzi Un bello chi è questa persona scusate grazie shadow calmangelo la multi non è ancora finita speriamo noi sei sempre in tempo a peggiorarla vabbè dopo un vegeta adesso troveremo 18 torneo perché dobbiamo trovare un altro epicals caolifla magari gone youtube non vi muovete ragazzi ho bisogno di prendermi state lì state buoni no e niente siccome sono un po' male mi sento un po' aggirato ho bisogno di un bicchiere d'acqua ora mi sento meglio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ti devi spaventare ti devi spaventare grazie Lory grazie per la sub sì per l'occasione sono tutto bagnato grazie a tutti grazie a tutti Grazie.